Siamo sul Colle del Balaguer, qui si sarebbe dovuta tenere Fiesta, una fiera di prodotti agroalimentari, tra l'altro Sardi. Siamo con chi avrebbe dovuto organizzare, anzi chi stava organizzando questa fiera con Giuseppe Iurato di Aladino Fiere e con Andrea Ferinu di Ital Fires. Allora, i sinaieri c'erano i gazebra, tutto pronto? Cosa è successo? E niente, io chiaramente devo cominciare il discorso un pochino per il fatto che Iurato, abbiamo rapporti appunto antichi, mi ha detto guarda vorrei che tu venissi a montare queste pagode. Sono venuto, con tanta voglia, essendo appunto algherese, sono venuto a Alghero anche a far vedere il materiale che io ho e niente, a un certo momento quando Iurato, che è quello che appunto portava tutta la parte burocratica, mi ha detto guarda che ci hanno chiesto 9 mila Euro per il solo pubblico, dico a quel punto cosa facciamo, smontiamo o andiamo avanti? Io non sono venuto a Alghero ad accollarmi 9 mila Euro di debito, si è venuto a guadagnare qualcosa, non 9 mila Euro di debito, allora appunto alla fine abbiamo deciso smontiamo. Chiaro che abbiamo avuto spese, però io non voglio andare via con un debito al comune di 9 mila Euro, questo discorso. E quindi abbiamo smontato tranquillamente. Ecco, richiesta di 9 mila Euro che è arrivata il giorno prima, il giorno prima dell'apertura di questa fiera. Sì, noi abbiamo inoltrato tutte le pratiche protocollate, le abbiamo chieste mesi prima perché avevamo chiesto di svolgere la festa di San Giovanni alla passeggiata Buschè come tutti gli anni e avrebbe allestito appunto Andrea della Etalfires di Blanes. non c'è stata data risposta, il commissario straordinario non ha firmato la delibera, ma la delibera c'era perché il dirigente l'aveva preparata e il segretario comunale l'aveva firmata, quindi bastava la firma del commissario. Non l'ha firmato e la nuova amministrazione si è trovata a questa patata bollente. Confrontandoci col nuovo assessore abbiamo optato per il momento di trasformare la fiera in una festa al Colle Balagher accollandoci tutti gli oneri finanziari, ma non siamo e non disponibili a essere presi per il collo. Quindi una cifra di 9.000 euro è un assurdo mondiale, basta dire questo. Basta anche ricordare le cifre che sono state richieste a Barcellona per la fiera di Barcellona e a Roma per il concerto di Rolling Stones, se non sbaglio 8.000 euro, quindi 1.000 euro in meno. A Barcellona allestisco per la generalità una fiera per esempio chiamata dell'immigrante, si riuniscono tutti quanti gli emigranti, le varie successioni di emigranti di Barcellona, al porto di Barcellona. Ecco, quella fiera non costa più di 6.000 euro, ma stiamo parlando di due o tre campi sportivi, ossia come differenza, al porto di Barcellona, quindi alla Barcellona con tutti i turisti, tutta la gente. E poi, come appunto ho letto anche, nel concerto di Rolling Stones, tenutosi al foro imperiale, 8.000 euro è costato, quindi sono somme che non capiamo. Tanti danni, tanti danni perché ovviamente qua era stato già allestito tutto, si era pronti per partire, ora cosa farete, quali saranno le vostre prossime azioni? Un'impresa che viene dalla Spagna, che monta le strutture, gli operai, la pubblicità già svolta, radio, siti internet, tutte le strutture tecniche, i servizi igienici, il gruppo elettrogeno, il contratto con l'Enel, quindi un danno molto grosso, ma soprattutto non si è pensato al fatto che dietro le aziende che partecipano a questi eventi ci sono famiglie, ci sono uomini, ci sono persone. Ecco, quindi tutti i danni di queste aziende, chi li pagherà? 150 kg di pane fresco, sono arrivati ieri mattina, 150 kg di anguille vive, i maialetti, e quant'altro, perché tutti avevano già le merci, noi abbiamo deciso alle 10.30 di smantellare, di cominciare a smantellare, e a quel punto le aziende sono andate via, portando via tutte le merci che già erano qua, quindi è un grande danno. L'amministrazione comunale si è fatta sentire l'assessore di riferimento Natascia Lampis, il sindaco Mario Bruno, avete sentito loro? No, il sindaco non ci ha mai risposto, Natascia Lampis l'abbiamo incontrata tante volte, ci siamo sentiti e aggiornati praticamente ogni giorno, col telefono, con sms, con mail, eccetera, eccetera, e quindi adesso dovranno decidere il da farsi. Una brutta figura è stata fatta nei confronti anche dei turisti che sapevano dell'evento, degli algheresi che avevano apprezzato e dimostrato che questo spazio lo rivolgono, e quindi qualcosa bisognerà fare. Abbiamo appuntamento domani mattina. Quindi domani mattina appuntamento. Ritengo che da parte dell'amministrazione comunale c'è stata una grande incomprensione, noi non abbiamo nessuna voglia di stare a litigare, di fare cose, quello che vogliamo è appunto collaborare. Ecco domani mattina, come diceva Iurato, abbiamo questo incontro con la Lampis e speriamo di trovare un accordo, un accordo futuro, perché la nostra voglia è di lavorare al ghero e di tirare il suo al ghero con degli eventi. Come il sindaco nella sua elezione aveva annunciato, 56 settimane c'è l'anno o 54, non ne metto a contarle, vogliamo fare 56 eventi o 54. Quindi al ghero punta a bisogno di queste preziosità, di questi eventi. Potrebbero esserci margini per organizzare un evento prima della fine dell'estate, entro agosto? Io non voglio bisticciare, se non abbiamo nessuna intenzione di bisticciare con l'amministrazione, vogliamo trovare un accordo. Ripeto, secondo me c'è stata una grande incomprensione di conoscenza. Voglio anche premettere che io questa signora Lampisi non la conosco, domani sarò felice di andare a conoscerla, o se la voglio conoscere felicemente.